16 aprile 2020, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, siamo di nuovo insieme questa mattina alle 7.53 in diretta dopo la messa del Papa in diretta dalla Cappella di Santa Marta per la rassegna stampa del mattino, occhio ai giornali che comincia come di consueto con lo sguardo al calendario del giorno, anche se questi giorni come diciamo spesso sono tutti uguali, però sono giorni, queste poi tra l'altro particolari perché siamo ancora nell'ottava di Pasqua, siamo ancora in questa grande festa che è la giornata di Pasqua che durerà ancora fino a domenica, San Benedetto Giuseppe Labre, questo è il santo tra i tanti che ricorda la Chiesa Cattolica, oggi il sole è sorto alle 6.22 e tramonterà alle 19.54. Andiamo a vedere invece il tempo come di consueto con le notizie che arrivano dal bollettino della protezione civile delle Marche e che prevede per la giornata di oggi una situazione piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico con il sole che splende su tutta la regione, le temperature saranno in lieve diminuzione quelle minime, tra l'altro vedete il simbolo del ghiaccio, infatti a nord della regione le temperature a quest'ora ancora sono abbastanza rigide ma in aumento nel corso della giornata, per domani ancora cielo sereno guardate su tutta la regione con sole che splende dalle colline, dalla montagna fino al mare e poi sabato 18 che invece il tempo avrà una evoluzione un po' più nuvolosa con il pomeriggio che sarà un po' più coperto, transito di nuvole ma insomma temperatura ancora in aumento anche e soprattutto quelle della notte. Tempo stabile anche per la giornata di domenica secondo il bollettino con possibile aumento della copertura nella giornata di lunedì per l'arrivo di una perturbazione che potrebbe interessare anche la nostra regione nella giornata di martedì. Saluto, saluto volentieri tutti coloro che ci seguono su Facebook in diretta sono, siamo già arrivati a 89 in queste prime battute della rassegna stampa ma poi vedo che sempre insomma sono destinati a salire quindi li saluto e ricordo che c'è anche questa novità delle stelline che potete acquistare e donare a Occhio alla Notizia al nostro servizio su Facebook proprio per sostenerci. Ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto, 50 stelline a testa ogni tanto arrivano e sono per noi fonte anche di spinta, forza per andare avanti. Allora adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, questa è la testata, l'edizione di Pesaro del Corriere, il mondo ha riaperto, noi invece no. Chi parla? Chi lo dice? Sono gli imprenditori dalla Lube, Lube Cucine a Clementoni che sono in pressing soprattutto per ripartire con le aziende, perdiamo mercati, ripensiamo a nuovi modelli di business. La frenata dell'epidemia intanto sul fronte sanitario nelle ultime due settimane meno di mille ricoverati, si è liberato praticamente un letto su sei. A centro pagina l'incognita dell'estate, l'incognita della spiaggia, si è lavori intanto per i bagnini, bagnini che però non si fidano, si torna in spiaggia, i bagnini possono andare a sistemare i chioschi, ma le associazioni di categoria chiedono alla Regione un'ordinanza d'ocche. Poi sulle affronte delle estetiste ci sono molte di queste che lavorano in nero, stanno andando nelle case delle persone in quarantena, nelle persone come tutti noi che siamo fermi o che pochi insomma che lavorano, ma la maggior parte sono fermi e quindi donne che si fanno sistemare, fanno rimettere a posto, da estetiste che non dovrebbero lavorare, non dovrebbero farlo, ma lo fanno. Cento segnalazioni in tutto finora. Da Pesaro invece, il resto del carlino, la speranza del plasma, Marche Nord inizierà, e questa è una notizia interessante, che andremo a vedere tra pochissimo, la terapia con anticorpi per i casi più gravi e poi la storia che arriva da Fano di un uomo di 75 anni che grazie ai medici, ma grazie anche al crocefisso, dopo 38 giorni ha vinto il coronavirus, ha vinto il male. Assalto al bonus dai muratori ai notai, prenotati, o meglio, scusate, patronati, sommersi dalle domande per avere i 600 euro del mese di marzo, in fila anche mille avvocati. E poi la paralisi in tribunale con le separazioni che slittano, le convivenze dunque forzate, la coppia fa scintille, e poi l'iniziativa del Comune di Pesaro, SOS Pesaro, Fondo Solidale per i più bisognosi. Ma non c'è soltanto il coronavirus, c'è anche spazio per andare a vedere quello che succede alla gola del Furlo, dove c'è stata una bella sorpresa scovata qualche ora fa, nati due pulli di Aquila Reale, fotografati, immortalati, le abbiamo fatte vedere anche ieri nel corso del telegiornale. E poi a Famiglia Nova di Fano, alta i decessi, la struttura è stata divisa, una parte è destinata ai malati Covid, dell'altra invece no, il responsabile di Fano dice stiamo comunque migliorando. Poi la sicurezza nelle fabbriche, test seriologici, l'ultima trincea delle aziende dopo i 300 acquistati dall'Automotive, Benelli Armi di Urbino ne ha ordinati altri 3.000. Meno di 1.000 ricoverati, il Corriere Adriatico si è liberato un letto su 6 negli ospedali Covid di punta, 250 ricoveri in meno di due settimane. E c'è il grafico che fa capire un po' subito, a colpo d'occhio, un po' qual è la situazione dei contagi con i 5.503 totali nella Regione Marche, 1.660 sono quelli guariti, vedete il colore verde, 994 ancora ricoverati, ci sono 2.103 persone nelle Marche che sono in isolamento domiciliare e purtroppo di colore nero, 728 le persone decedute in serata, poi sono salite a 746. Sono i dati aggiornati alle ore 12 del 15 aprile dal Gores, poi c'è stato questo aggiornamento con qualche decesso in più. Il mondo è ripartito, rivediamo i modelli o resteremo staccati? Lube, Simonelli e Clementoni, non c'è più tempo, dicono, e c'è chi guarda il progetto 4D della Lombardia, ma qui da noi la sicurezza dei lavoratori è già un dato acquisito. Per esempio, leggiamo soltanto alcune delle dichiarazioni dei tre patron, per esempio Fabio Giulianelli, amministratore delegato della Lube Cucine, che ha sede a Treia, ai miei negozi ho detto, iniziate prima e chiudete alle 22, un cliente alla volta. Nando Ottavi, presidente della nuova Simonelli, belforte del Chienti, le piccole imprese si devono aggregare, portiamo in Italia alcune produzioni. Clementoni, Giovanni Clementoni, amministratore delegato della omonima azienda di Recanati, riapriamo tutti e nel minor tempo possibile il mondo non ha chiuso. E questa è la pagina degli imprenditori del Corriere Adriatico. Ma le aziende, e qui siamo sulla pagina 3 del resto del chaleo di oggi, edizione di Pesaro, le aziende vanno all'assalto dei test sierologici da fare ai dipendenti, ovviamente quelli che si vogliono sottoporre al test volontariamente. Qui vedete una fotografia che rappresenta subito e che fa capire di cosa stiamo parlando. Benelli Armi ne ha ordinati di questi test sierologici 3.000 da settimane. La SEA Group di Fano ne ha fatti 70. Insomma, migliaia di lavoratori che sono coinvolti in questo tipo di diagnosi. E Paolo Viti, della Benelli Armi, dice noi in fabbrica siamo in 300, ma vorrei ripetere le prove ogni settimana. Dal punto di vista statistico è prematuro parlare, dice Cangiotti di SEA, ma è interessante sapere che nel nostro laboratorio di riferimento si sono già prenotate molte aziende per fare questo test, altre hanno già cominciato, si parla di decine di migliaia di lavoratori, siamo soltanto all'inizio. Lo Stato sta tergiversando troppo per cui gli imprenditori stanno facendo le indagini da soli perché vogliono, e questo è importante, riprendere a lavorare presto ma soprattutto in sicurezza. E questo test la SEA Group l'ha fatto nel laboratorio di calcinelli di Colli al Metauro. Fiera Hospital, parliamo invece di questa fiera a Civitanova Marche che presto diventerà il Covid Hospital praticamente regionale. Si parla questa mattina in questo articolo sul Corriere Adriatico della lista dei costi, 5 milioni che arrivano anche da Banca d'Italia, voce per voce il piano di fattibilità della regione per Civitanova, prezzi alla mano, una spesa totale di 14 milioni. Anche se Solaro del Borgo della CISOM dice che tra sconti e aiuti saranno meno di 14 milioni, resteremo intorno ai 12 milioni quelli ipotizzati all'inizio. Per quanto riguarda i tempi invece ci vorranno tre settimane, probabilmente tre settimane. Si sfila di nuovo Tanoni, il coordinatore dei benefattori marchigiani, poi la lettera al vetriolo alla regione, ormai non serve una risposta immediata. Insomma c'è in questo articolo di Andrea Taffi un po' la situazione aggiornata all'ultima ora insomma su quello che è la realizzazione di questo grande ospedale. Intanto ci sono questi checkpoint, questa è la fotografia che si riferisce a quello di Pesaro in strada dei cacciatori, a Fanno lo ricordo invece è stato predisposto al Codma. Ecco i checkpoint saranno sempre più fondamentali e strategici, soprattutto in vista della fase 2, quando si tenderà lentamente, ma si tenderà a riaprire, a ripartire. Sapete che ci sono tantissime persone che sono positive a casa, i numeri del Gores, ve li facciamo vedere tutte le sere, ci sono centinaia e centinaia di persone che però per uscire di casa devono avere il secondo tampone, quindi questo certificato, questa patente che possono riuscire, possono tornare alla vita di tutti i giorni. E per il percorso guariti 500 tamponi al giorno, questo è l'obiettivo da perseguire. Il servizio di via dei cacciatori è sempre più indispensabile in vista di questa ripartenza, velocizzare il funzionamento del checkpoint diventa prioritario per l'area vasta numero uno. Poi c'è una polemica invece che riguarda una donna di 40 anni, una signora di 40 anni di Pesero, che racconta quella che è una situazione che sta vivendo, una situazione surreale, perché dice lei pensavo il sistema sanitario funzionasse bene, ma mi sono dovuta ricredere. E racconta tutta la sua vicenda che, insomma, a leggerla in effetti è composta di tante disavventure che verrebbe da dire, mamma mia, non è possibile tutto questo ad una sola persona. Però in realtà è così. Insomma, il titolo però è questo. Perduto il mio test minaccia adesso un esposto. Ma ci sono anche, e qui andiamo di nuovo sul Corriere Adriatico, per questo articolo che ha scritto Lorenzo Furlani questa mattina e che racconta la storia di una donna, Parasca Ciorei, che vive a Bellocchi di Fano, che è già mamma di Riccardo, che ha sei anni, e che ha programmato un parto con il Cesareo di due gemelli. Però vive momenti di grande tensione. Perché? Perché la suocera è positiva. Quindi lei dice io ho tanta paura, ora teme la prova del tampone, che ovviamente, obbligatoriamente, le verrà fatto, soprattutto durante il pretriage, quindi prima di entrare. Ho fatto la quarantena separata in casa da mio marito, ma comunque tutto sommato ho fiducia. E sotto racconta invece Ottavia Francini, più o meno una cosa simile. Anche lei, 30 anni però, agente immobiliare di Pesaro, è già mamma di Matteo di 4 anni, e che tra qualche giorno, tra poco più di una settimana, metterà al mondo, farà nascere la secondogenica, secondogenita Ludovica. Mentre, ecco, per completezza di informazione, è bello anche ricordare i nomi dei due gemelli. Luna e Leo saranno loro che verranno appunto alla luce, forse il 30 di aprile, così come spera il padre. Se il Cesario, infatti, si farà in quella data, avremo tre figli, tutti nati lo stesso giorno. Quindi, se non è un miracolo questo, poco ci manca e saremo super felici, racconta il papà. Oh, dicevamo di questa sperimentazione con il plasma, lo dicevamo nei titoli d'apertura, in prima pagina. Simona Spagnoli, questa mattina, scrive due articoli molto interessanti sul resto del Carlino. E a proposito di questa sperimentazione con il plasma, è un po' la nuova frontiera per i casi acuti, per le persone che stanno male, molto male. Si punta a curare queste polmoniti tramite gli anticorpi che sono presenti nel sangue di pazienti che sono già guariti. E questa è una pratica che viene fatta, che è stata autorizzata, quest'uso del plasma a scopo terapeutico, e che viene prelevato da soggetti convalescenti oppure guariti, come dicevamo, dall'infezione, ed è già stato usato con successo in altre malattie epidemiche, come l'ebola o l'influenza H1N1, soprattutto come soluzione ponte in attesa del vaccino. Dati clinici, infatti, indicano che la sua somministrazione può essere applicata in maniera sicura ai malati in fase acuta, con un miglioramento delle condizioni cliniche e soprattutto minor mortalità. Un altro vantaggio, poi tra l'altro, è rappresentato dal fatto che non è necessario che il plasma del nodatore sia compatibile con quello del ricevente. in base al gruppo sanguigno. E nei prossimi giorni, dice Francesco Barchiesi, individueremo i donatori. Una terapia già approvata, appunto, come dicevamo, anche per altre epidemie. Poi sempre Simona Spagnola ha lavorato ieri su un altro fronte, quello della riorganizzazione degli ospedali verso la fase 2. Intanto a San Salvatore e a Pesaro tornano i reparti puliti, mentre a Santa Croce di Fano verranno fatti i tamponi anche agli asintomatici. Il personale, soprattutto, che verrà destinato ai nuovi reparti di Fano, sarà sottoposto a tampone anche se asintomatico, così come coloro che dovranno rientrare in servizio dopo la quarantena. A Fano è bene ricordare che, e lo fa appunto la Spagnoli questa mattina, che chirurgia, urologia, ortopedia saranno le prime divisioni a riattivare la sala operatoria, anche se in misura ridotta rispetto alla normale attività. Ora, questo è un articolo, francamente, che mi ha commosso, lo ha scritto Tiziana Petrelli. Vorrei leggervelo tutto, ma evidentemente non posso, perché, è chiaro, c'è un giornale che va acquistato, c'è un lavoro di colleghi che va rispettato, e allora mi limito soltanto alla parte che mi ha davvero commosso. Lotta con il virus, e parliamo di Giuliano Talamelli, di 75 anni, un geometra di Fano, che è anche ministro straordinario dell'Eucaristia nella parrocchia di San Pio X a Fano, ha lottato 38 giorni con il virus, alla fine ne è uscito vincitore, racconta il suo calvario, lui dice pensavo di non farcela, poi mi hanno dato la forza i medici, mio figlio, ed il crocefisso. L'emozione più grande, quando alla vigilia di Pasqua sono uscito, in tanti mi hanno applaudito. Potete immaginare la scena, qualche cosa si può vedere anche su YouTube, con simili situazioni anche in altri ospedali d'Italia. Ma sentite che cosa dice, cosa racconta Giuliano Talamelli, in quell'isolamento, quindi immaginatevelo nel letto di questo ospedale, in questo reparto di terapia intensiva, tutto intubato, non poteva muoversi, non poteva far nulla, in quell'isolamento dice non parlavo, quasi non pensavo. Fortunatamente una spinta me l'ha data un crocefisso che era proprio di fronte a me, che mi guardava. Quello è stato l'ultimo filo di speranza a cui mi sono aggrappato. La domanda, la fede l'ha salvata? Sì, perché in tutto questo sentivo le parole del Papa, non perdete mai la speranza. E allora ho detto, signore, di speranza tra me e te, quanta ce n'è rimasta. E siccome non potevo fare altro che guardare, neppure a pregare riuscivo, ho mantenuto lo sguardo fisso su di lui. Per fortuna in ospedale c'è ancora il crocifisso, non come nelle scuole. E dopo sei giorni mi sentivo un po' meglio. E poi continua a raccontare del suo trasferimento a Civitanova. Insomma, alla fine esce la Vigile di Pasqua, accolto dagli applausi. Il Corriere Adriatico, nelle pagine interne, ancora situazioni di vita di tutti i giorni. Gente che per esempio, quando ha il mal di denti, adesso che fa? Qui ci sono i dentisti che entrano in campo, l'Ordine dei Medici della provincia di Pesaro, con il suo rappresentante, il dentista Franco Cesaroni, che dice che per i pazienti è necessario uno screening rapido, perché altrimenti siamo in difficoltà nel rieprire i nostri studi. Quello che chiediamo è la possibilità di avere dei test molto rapidi che possano dirci se il paziente è positivo o lo è stato, prima di poterlo trattare in tranquillità. Intanto di spalla, vedete, Marche Nord cerca medici di anestesia e rianimazione. Le assunzioni serviranno per il post-emergenza. Sulla spiaggia, sul fronte dell'estate, si può lavorare, ma i bagnini non si fidano. Giuliani, che è il responsabile dei bagnini della Oasi Confartigenato, chiede un atto ufficiale della Regione, ma ci sono dubbi anche sulla futura fruibilità degli arenili liberi. Quindi, che cosa si farà? Si potrà andare oltre... Cioè, le spiagge libere saranno fruibili, ci si potrà andare a prendere... Perché, sapete, finché vengono regolamentati dai concessionari di spiaggia, quindi il bagnino che probabilmente dovrà rispettare delle distanze di sicurezza, lì si è obbligati e ci sono persone che ti dicono cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Ma nelle spiagge libere, che cosa succederà? Saranno aperte o saranno chiuse? Perché immaginiamo che se saranno aperte non ci sia nessuno che ti dica come devi stare, se devi stare vicino o lontano, se vanno bene le distanze e quant'altro. Di conseguenza, questo è uno dei tanti dubbi che hanno appunto i bagnini, i lavoratori delle spiagge. Voglia di spiaggia tra mille incognite è il titolo d'apertura del carriero della Pagina di Fano, i bagnini vogliono avviare i lavori, ma ancora nessuno sa come e se si potrà andare al mare. Il ruolo e la palla, la patata bollente, potremmo dire, adesso parla, passa alla Regione Marche. Tant'è che tra i vari interventi che vengono registrati in questo articolo, ci sono in questo articolo, non è un problema, c'è anche quello di Renato Claudio Minardi, il Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, che dice che non è un problema di burocrazia, abbiamo lavorato in questi giorni per trovare una soluzione che consentisse ai concessionari di prepararsi alla stagione, anche se sarà diversa dalle altre. Il decreto a fiera del Presidente Ceriscioli, che dovrebbe uscire oggi, dopo il confronto con le prefetture, prevederà i necessari chiarimenti. Quindi bisognerà aspettare qualche ora e poi stasera vi diremo, nel corso del telegiornale, che cosa prevede questo decreto del Presidente Ceriscioli. Associazione Carabinieri, aiuti dati all'ospedale, anche qui si moltiplicano le iniziative, le donazioni, in questo caso soci e simpatizzanti hanno raccolto e donato 1.800 euro per il Presidio ospedaliero del Santa Croce di Fano. E poi Bagnini, anche qua da Pesaro, dalla Regione Solo Confusione, i titolari delle concessioni dei Magnali attendono ancora il Via Libera per poter pulire, sistemare e sanificare la propria area. Un'ordinanza vera e propria è prevista per oggi sulla falsa riga di altre amministrazioni regionali. Poi sull'aiuto alle aziende, confidi, va incontro agli imprenditori, le domande di liquidità sono alla partenza, sul sito della Regione Marche, tutte le spiegazioni per arrivare alla formulazione delle richieste. Poi la questione, come dicevamo, delle estetiste, dei parrocchieri che vanno comunque a casa delle persone, ovviamente in modo abusivo, quindi in nero. Ci sono per il momento 100 segnalazioni, la Confartigianato invoca il pugno duro per il boom dell'abusivismo a domicilio, decine di posizioni irregolari, chieste e verifiche all'Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza. Basta con il settore della bellezza cenerentola, sotto il profilo della sicurezza siamo più avanti di altri. E poi questa mattina il Corriere torna a parlare di Zagor, Mirko Bertuccioli dei Camillas che è morto qualche giorno fa a causa del coronavirus. Mirko, la breve storia, quel libro era ora profetico. Bertuccioli aveva appena terminato la nuova opera dei Camillas, l'artista stroncato dal Covid, ricordato anche da Claudio Bisio e Maria Antonietta. Mentre di nuovo sul Carlino, l'edizione di Pesaro, albergo aperto per i medici, ma ci rimetto, parla Marcucci Pinoli e la sua scelta di tenere attivi i suoi due hotel a Pesaro e a maggio sarò costretto, dice, a chiedere alla Cassa Integrazione per i miei dipendenti. Spendo più di quello che guadagno, hanno visti i prezzi molto più bassi del normale. E un bed and breakfast si offre per i sanitari che non tornano a casa. È al porto, il titolare ha attivato le misure di sicurezza, sapevo che questo servizio era richiesto. Poi sotto Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord, che dice ancora una volta, è tu l'operatore esclusi dei fondi camerali. La protesta del direttore, le uniche imprese che restano a bocca asciutta. E poi, Famiglia Nova, arrivano i tamponi, si inizia a sperare nel meglio per la casa di riposo di Fano, ma i decessi sono stati ben 15, dunque si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel nella casa di riposo, nella casa albergo per anziani Famiglia Nova. Da giorni, infatti, nella struttura non si registrano più decessi, fermi a 15, dunque, su 65 residenti iniziali, e sono arrivati anche i tanto attesi tamponi. Si studia un percorso per dividere chi è fuori dalla malattia e chi invece ancora è positivo. Mentre a Saltara, nell'altra casa di riposo, ora sono 10 i morti all'ospizio, ancora vittime tra gli ospiti. Da ieri è arrivato anche in aiuto un nuovo infermiere. È operativo questo infermiere, arrivato dalla protezione civile, è un'ottima persona, conferma Suor Laura, che è la responsabile della struttura gestita dalle suore adoratrici del sangue di Cristo e di grande esperienza, dice e aggiunge. Seppur presente solo tre volte a settimana, l'arrivo dell'infermiere è fondamentale per la casa di riposo di Saltara. Intanto addio a Don Marcello, il sacerdote di tutti, una valanga di messaggi per il prete scomparso prematuramente. Il ricordo è di Roberto Mazzoli, direttore del Nuovo Amico, che è il settimanale diocesano. Don Marcello è scomparso, aveva 62 anni, ma era fiaccato da una lunga malattia. Sono tanti a scrivere. Un rapido ritratto scaturisce dalle parole di Roberto Mazzoli, appunto il giornale interdiocesano, che domenica al sacerdote dedicherà un ampio spazio, acuto commentatore del Vangelo, vicino alla comunità di via del seminario. Divieto di spostarsi, 25 multe, 5 denunce, 3 hanno dichiarato il falso mentre una persona si era allontanata da casa, anche se era in quarantena. Vestizione del defunto. Qui c'è la protesta di una famiglia, la famiglia Camossi, che racconta di quella che secondo questa famiglia è un po' un'ingiustizia, un'ingiustizia economica, se vogliamo. Chi muore per la pandemia non viene affatto vestito, poi 50 euro dell'obitorio, dice questa famiglia, in questo periodo di restrittezze economiche, sembra un po' troppo, anche se è vero che quest'onere è previsto dal 1 gennaio del 2020, ma insomma, chiederlo proprio adesso si poteva aspettare. Mentre sui 120 euro, per la vestizione della Salma, che in tempi di coronavirus non viene più fatta perché non vengono vestiti, la richiesta di spiegazioni da parte di questa famiglia all'azienda, alla società che ha in gestione, che ha debitato il servizio ai familiari della deceduta, insomma dice, io non ho ancora ricevuto spiegazioni, però ha ricevuto la fattura. 170 euro, divise appunto in 120 per la vestizione della Salma e 50 euro per l'accoglienza all'obitorio. Quanto costa il lockdown al Comune di Pesaro? Gli introiti perduti tra tasse e tariffe, l'imposta di soggiorno più che di mazzate rispetto alle previsioni, stessa cosa per le tasse, tosa per rette, insomma, anche qui si fanno i conti, il Sindaco Ricci senza risorse, incassa il rischio, è che saltino i servizi per i più deboli e poi nasce SOS, SOS, Pesaro per l'emergenza, presentata dal Comune alla piattaforma per aiutare le famiglie in difficoltà. Si possono fare donazioni anche private. L'ospedale di Urbino invece sarà ripulito dal Covid. Il Presidente della Regione Ceriscioli lo ha promesso al Sindaco Gambini e ai cittadini ieri in una riunione in videoconferenza. Alla città Ducale viene riconosciuto il grande sacrificio fatto per contenere il virus. Intanto l'ondè è soddisfatto, le promesse sono state mantenute, i consiglieri di minoranza ritengono che sia opportuna la scelta di mantenere Civitanova per le emergenze. Sanificazione dell'ospedale c'è l'ha promesso Ceriscioli, anche qui si fa riferimento a questa videoconferenza. Il Sindaco di Urbino ieri davanti al suo computer mentre parlava appunto e ascoltava il Governatore si è confrontato con la Regione Gambini ma non c'è un'indicazione sui tempi. Poi c'è invece un'indicazione per chi vuole chiamare il numero da chiamare per le consegne a domicilio. È un numero che ha attivato il Comune di Urbino per tutte quelle persone che non possono uscire. Allora, non so se fate in tempo, altrimenti andate a comprare il giornale. Il numero da chiamare è questo qua. Ecco, 0... no, scusate, 0... 333 75 77 943. Sotto, invece, per il consigliere regionale Fabri l'emergenza va gestita con logica militare e sanità strategica deve essere ristrutturata. Da Fano, efficientamento energetico, dalle parole si passa ai fatti, è l'annuncio di cora fattori, obiettivi, strategie e finanziamenti per una nuova economia. Domani riunione congiunta su YouTube delle commissioni bilancio ed ambiente. ASET, impossibile abolire l'Atari. Abbiamo degli oneri, il Presidente Reginelli nega la Cassa Integrazione. Attivate, invece, la solidarietà. Attività didattica a distanza, sempre dalle pagine di Fano del Corriere, anche per i bambini speciali, disposta dal Comune fino al 15 maggio. Per piccoli, fino a sei anni, potrà essere prolungata. E poi Paolo Toffoli, il campione della Pallavolo, invita tutti a restare casa. Ce la faremo, l'indimenticato campione, posta fotografie storiche. Eccola qua, una di queste. le vacanze al mare di un tempo, con i fusti, come vedete, e i costumi che andavano a quell'epoca. A Famiglia Nova, invece, separati, gli ospiti negativi al Covid, il responsabile riferisce l'ottimo giudizio espresso dalla commissione sanitaria. E ai giardini, qui siamo sulla pagina di preso del Corriere, ai giardini di Viare Colombo, riparte la riqualificazione. L'assessore Belloni annuncia i lavori, già piantumate 20 alberature, ma i tempi cambieranno. Poi la denuncia, nei confronti di un pesarese, che aveva nel deposito alcune griff taroccate. È un'operazione che riguarda la Guardia di Finanze, che è partita da Torino, nell'ambito di una maxi operazione che ha coinvolto tutta l'Italia, e che ha portato a sgominare una rete di distribuzione di capi di abbigliamento contraffatti di note griff. A capo dell'azienda produttrice di questi accessori e di abbigliamento taroccati, con sede in Tunisia, c'era un imprenditore italiano del ferrarese, ma la Guardia di Finanza ha bussato anche la porta di un pesarese che aveva nel deposito appunto alcune griff false. Dalla Val Cesano, Pergola, irragionevoli tre anni di lavori, ripristinate i 120 posti letto. L'ex sindaco Baldelli replica l'Asur sul cantiere fino al 2022, ci dissero invece marzo 2020, mentre sulle case di riposo, sulla casa di riposo Mondolfo, il PD chiede chiarimenti sulla gestione, il segretario Mancini offre collaborazione al sindaco Nicola Barbieri. Sui sottopassi viari, invece, il sistema di allarme e di sicurezza, sono stati attivati semafori, sensori e telecamere per segnalare fenomeni di allagamento. Avete visto anche il servizio o meglio la macchia di ieri nel corso del telegiornale, vi abbiamo fatto vedere a Marotta, ci sono alcuni sottopassi che verranno dotate di telecamere high-tech tecnologiche che saranno attive 24 ore su 24, che in caso di allagamento faranno partire delle telefonate a tutte quelle persone che devono poi fare in modo di liberare al più presto la strada e riportare tutto alla normalità. Dalla pagina di Senigallia invece cantieri per manutenzioni e restyling, così abbiamo incentivato le imprese, la relazione di fine mandato del sindaco Mangialardi che evidenzia gli aiuti ridotti gli oneri di costruzione. Poi il giallo di quest'uomo trovato, Manuel Giovannelli, trovato morto a Malta, quel biglietto nell'auto ancora è risolto il caso del veterinario di Corinaldo, c'è scritto basta in questo foglietto i familiari però ritengono che sia soltanto un depistaggio. Invece a 89 anni è morta Lola Sabatini sempre dalle croniche di Senigallia paladina delle donne. Credo che sia l'ultima pagina della nostra segna stampa no, ah no, ecco ce ne sono due le avevo lasciate per ultime eccole qua le facciamo vedere insieme perché sono due pagine che pubblica il Corriere Adriatico di questa mattina con questa domanda e queste risposte che sono state chieste ad alcuni personaggi illustri della nostra regione quando esco ecco la prima cosa che farò quando esco dalla quarantena ecco che cosa farò e le risposte sono per esempio di Filippo Magnini campione di nuoto che dice uscire e ridefinire ciò che è davvero essenziale oppure tornare al ristorante e insisterò sulla qualità dice Lattanzi imprenditore oppure andrò a piedi nudi sulla sabbia e poi a rivedere i miei figli Emidio Morganti dirigente arbitrale e Quintanaro oppure la prima cosa che farò andrò a riabbracciare i miei cari e a dirigere un allenamento dice Fabrizio Castori allenatore di calcio oppure Filberto Stocchi che è il rettore delle università di Urbino che ha risposto vado a fare una passeggiata ascoltando il vociare dei miei studenti oppure una cena con gli amici come vorrebbe fare appunto al più presto Pietro Alessandrini che è professore merito di politica economica una cena con gli amici ai quali dirò siamo migliori oppure Francesco Caso l'imprenditore che dice conviviano in riva al mare per l'orizzonte a Senigallia insomma di questo magari adesso potete anche voi dare una risposta se state così guardando la rassegna a casa davanti al caffè a un caffè a una tazzina di caffè o così può essere di spunto come riflessione cosa farete una volta che sarà finita questa quarantena pensiamoci buona giornata ci vediamo stasera alle 20 e 30 grazie a tutti